Sappiamo tutti quanto sia importante avere un mindset orientato al successo, quanto sia indispensabile per raggiungere qualsiasi obiettivo. Vi sono diversi modi e tecniche per farlo, sicuramente con la giusta conoscenza questo è un processo che può essere velocizzato ed ottimizzato al meglio. Se tu provi a cambiare qualche aspetto della tua vita, ti renderai subito conto che c'è una forza interna che si oppone al tuo desiderio di cambiare. Per esempio, se vuoi smettere di fumare o fare attività fisica con più costanza, c'è una forza al suo interno che rende difficile questo cambiamento. Questa è la forza dell'abitudine, che è controllata dall'inconscio e che va a limitare ogni tuo desiderio di cambiamento. L'abitudine vince sempre sulla forza di volontà. Se vuoi creare dei cambiamenti, devi riuscire a modificare il contenuto del tuo inconscio in maniera tale da trasformare un'abitudine nell'azione che vuoi fare. E per questo esistono videocorsi e consulenze dove si scende più in dettaglio. Ad ogni modo, esiste un software in grado di aiutarci? Possiamo creare audio o video subliminali per oltrepassare le barriere consce mentre facciamo tutt'altro? Bene, cercando nei meandri dell'internet, a quanto pare qualcosa c'è ed è presente in tantissime lingue, tra cui anche l'italiano. Vediamo un po' cosa si sono inventati questi signori e se può esserci utile. Rimanete fino alla fine perché poi andremo a schermo e ci divertiremo un po'. Stiamo parlando di un programma con il quale puoi aiutare i tuoi clienti e anche te stesso ad incrementare le tue abilità mentali e salute generale. Stiamo parlando di Mindzoom 3.1, la nuova versione. E qui sotto c'è anche un link per quanto riguarda Mindzoom Subliminal Mixer, come mescolare le tue affermazioni. Quindi iniziamo. Se ti sei sempre sforzato per ottenere le cose migliori nella tua vita, ti sei mai chiesto come posso avere successo in tutto quello che faccio? Oppure mi piacerebbe raggiungere i miei obiettivi ma è troppo difficile. Sono sicuro che spesso ti sei chiesto come le persone di successo trovino la motivazione, la confidenza, la personalità e le abilità per ottenere praticamente tutto quello che vogliono. A volte sembra che la tua mente sia contro di te e sì hai ragione. Il nostro cervello ci limita a raggiungere il massimo potenziale delle nostre capacità ed è qui che Mindzoom entra in gioco. Mindzoom può aiutarti con le cattive abitudini, quali fumare, una cattiva alimentazione o un pessimo atteggiamento verso la vita e eccetera. Magari vuoi moltiplicare i tuoi risultati lavorativi, essere creativo su nuove idee, avere una mentalità saggia sulle decisioni, attrarre la salute impostandoti in modalità vincente. Migliora le tue abilità sociali, parlare in pubblico, essere un leader naturale o anche andare più d'accordo con le persone. Mindzoom ti darà il setup giusto per affrontare la vita. Tutti vogliono essere felici no? Mindzoom utilizza tre tecniche per entrare direttamente nel tuo inconscio grazie al motore di consegna affermativa. Mindzoom convoia migliaia di comandi positivi che sono ignorati dal tuo inconscio. Questi messaggi passano sullo schermo ad una velocità virtuale non rilevabile, in modo sicuro e discreto. Grazie all'uso di un sistema di messaggi subliminali, affermazioni positive vengono convertite in dialogo e passati tramite un sistema di frequenza subliminale non riconosciuto consciamente dall'orecchio umano, ma che arriva al cervello. Grazie a questo lavoro di condizionamento mentale, la tua mente può imparare un'abilità, qualsiasi abilità, dalle lingue straniere alla seduzione, alla vendita, all'intuito negli affari, a qualsiasi altra cosa tu desideri. In modo terribilmente più veloce rispetto a prima, come se ogni ripetizione valesse per 10 ripetizioni. Come se l'abilità che cerchi trovasse di colpo una predisposizione dentro di te presente fin dalla nascita, ma che fino a quel momento non avevi mai stimolato. Puoi anche creare il tuo personale cd di affermazione utilizzando MindZoom Subliminal Mixer, un'incredibile feature dove puoi usare testi o affermazioni audio. Puoi anche registrare le affermazioni che desideri o usare quelle già disponibili e inserirle nei file della tua musica favorita e ascoltarle ovunque, come iPod, a casa, stereo, ecc. Sappi che la terapia subliminale non è una cosa nuova. Fu già presentata agli inizi del 1900. Uno dei primi metodi di suggestione subliminale fu la Whisper Therapy, terapia del sussurro, dove ad un paziente venivano sussurrate suggestioni nella speranza di indurlo inconsciamente verso un miglioramento comportamentale. Con l'avanzamento tecnologico i messaggi subliminali sono stati usati in diversi media, come immagini, musica e suoni. Con MindZoom puoi aiutare te stesso e gli altri. Quindi fai clic sul link in descrizione e scopri questo incredibile programma che puoi utilizzare in tantissime maniere. Per chi volesse qualcosa di più personalizzato invece vi ricordo che iscrivendo in privato al nostro team è possibile essere seguiti uno ad uno con tecniche un po' più avanzate. Solo metto le mani avanti, per ragioni di tempo non possiamo seguire tutti. Dunque se siete a zero fatevi prima una conoscenza con tutti i contenuti che pubblichiamo gratuitamente. Vi assicuro che già studiando quelli avrete molto da immagazzinare. Ma andiamo avanti. Eccoci qui. Dopo aver letto un po' di questo straordinario software vediamo nel concreto come funziona. Cosa voglio fare ora è un mix completo. Sarà una cosa veloce ma voglio misurare quanto tempo ci vuole per fare un mix completo. Ho un cronometro qui. Cominciamo. Utilizzeremo i suoni base. E qui ho una bella canzone che voglio inserire. Clicchiamo ok. Sta caricando i suoni base. Eccole qui. Ora carichiamo i suoni subliminali. Useremo le affermazioni sull'essere positivi. Ok per adesso non includiamo il binaurale. Clicchiamo mix. Utilizzeremo questo. Rimpiazza e mixa. Quindi ora aspetteremo un paio di secondi. Quasi finito. Pronto. Qua finiamo. Un minuto e 21 secondi circa. Non male. Ecco fatto. Un mix completo. Facile e veloce con MindZoom Mixer. Bene. Ora tocca a voi. Scrivete un po' giù cosa ne pensate e se siete interessati trovate il link in descrizione. A presto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.